In questo video voglio tornare sulla partita di ieri del Napoli e vorrei analizzare delle parole che ha rilasciato Antonio Conte appunto nella conferenza post partita perché lanciano fondamentalmente un allarme, un allarme che io ho tradotto nel discorso della malattia del Napoli o meglio paragonando Napoli a una persona malata che sta ritrovando un pochino il... che deve ritrovare la tranquillità, deve ritrovare la salute e non è un processo così immediato. Io vi già avevo detto nel video su Conte quando è stato appunto assunto a Napoli scordatevi il discorso che arriva Conte e tutto quanto si sistema. Se il Napoli vede una stagione negativa ci saranno stati dei motivi che hanno portato una regressione del Napoli in confronto a quella della stagione precedente ancora quindi quando hanno vinto lo scudetto. E poi è iniziato questo loop negativo, i motivi possono essere tanti possono essere il cambio di tanti allenatori, può essere la delusione dell'addio di Spalletti può essere un cambiamento di filosofia di gioco che magari non è consono, non si adattava insomma ai calciatori la non fiducia, la mancanza di autostima, insomma le ragioni possono essere più disparate il fatto sta che appunto ieri nel post partita e la sconfitta clamorosa per 3-0 contro il Verona Conte ha rilasciato delle parole importanti quindi andiamo a leggerle Allora, dov'è che inizia? Nel primo tempo c'è stata una squadra in campo, il Verona non l'aveva neanche mai tirato a rientro nel secondo tempo abbiamo subito concesso un tiro e poi un gol Ci siamo sciolti come ne va il sole. Sciolti come ne va il sole, ben da sai che non è un sintomo positivo vuol dire che la squadra ha dei problemi strutturali ben evidenti dal punto di vista tattico e dal punto di vista mentale, caratteriale, tattico perché poi si è visto al labiale di Conte che diceva eravamo in 8 contro 2, danno la palla a Juan Gesus e poi prendiamo il gol Quello che mi sento di dire è che c'è da chiedere umilmente scusa al popolo napoletano che ci segue con passione, è giusto che mi assuma io le responsabilità e questo è una frase molto più matura rispetto al Conte in inizio carriera allenatori come Conte, come Mourinho, sono sempre stati quegli allenatori che dicevano quella frase d'effetto per attirare su di loro le polemiche e non far parlare dei ragazzi quindi in questo modo insomma cercavano in questo modo molto guascone di infondere sicurezza alla squadra e di non fare passare determinati messaggi che poi magari avrebbero potuto risentire sulla condizione psicologica della squadra stessa quella del secondo tempo è stata una prestazione inaccettabile figlia sicuramente di qualcosa qualcosa è un qualcosa di molto indefinito sa indicare un concetto che ancora probabilmente deve essere capito quantomeno la ragione di questo problema ora c'è da lavorare sotto ogni punto di vista sono arrivato qui con entusiasmo e voglia posso mettermi a disposizione in qualsiasi momento e aiuterò in Napoli in qualsiasi modo normale anche perché è arrivato ovviamente l'altro ieri e ci mancherebbe altro che abbandonasse già la nave poi riguardo il mercato perché poi dal mercato gli fa una domanda sul mercato e poi riprende il concetto di base al di là del mercato quello che è preoccupante è vedere la squadra sciogliersi in questo modo alla prima difficoltà dal mercato ne posso arrivare quanti ne vogliamo ma è relativo il problema va risolto a monte e non è di facile risoluzione penso di avere l'esperienza giusta per dire alcune cose e quando parlo me ne assumo sempre le responsabilità non parlo mai tanto per parlare quindi il discorso è questo la mancanza di reazione della squadra quando fai svantaggio nelle problematiche e fondamentalmente un'altra squadra che adesso dobbiamo ancora vedere come inizierà la stagione 24-25 ma che per anni era così era Juventus e sarà Juventus del secondo Allegri mancanza di gioco mancanza di fiducia paura ovviamente non sto paragonando i due allenatori ok ma sto dicendo che anche la Juventus aveva questo problema quando andava in svantaggio alla prima difficoltà se imbroccava la partita roba che ti vinceva tra zero ma alla prima difficoltà la Juventus andava in bambola e così anche il Napoli ovviamente poi tutto è da ricondurre a motivazioni appunto magari tecniche anche motivazioni tecniche quindi magari una rosa che manca in qualche ruolo ma quando ti manca la fiducia in te stesso ti manca tutto vogliamo dire una squadra un po' depressa per x motivi possiamo anche dirlo non di giocatori depressi intendo una squadra depressa come DNA una squadra depressa che ripeto quando imbrocca la partita si scioglie ma al primo momento difficile i problemi si fanno sentire e io sono d'accordo con Conte sono d'accordo con Conte nel dire non è una soluzione a breve termine ci vuole un percorso la squadra del Napoli è come una persona malata che sta guarendo la stessa cosa è la Juventus c'è questa analogia delle due squadre sono entrambe squadre che vengono da brutte esperienze e danni negativi la Juventus di più il Napoli l'anno scorso che però è stato doppiamente duro perché venivano le nostre giorni di successo e più il castello è alto più quando cadi ti fai veramente male vuoi mancanza per una vuoi per una mancanza di fiducia comunque in un certo settore perché comunque è vero che il settore sportivo dal punto di vista di dirigenziale l'anno scorso ragazzi il mercato fallimentale l'ha fatto dell'Arentis e adesso viene per curato dell'Arentis perché avreste visto il meme di di l'Arentis che rispondeva a quel tifoso che chiedeva Hermoso di calcio non ne capisci tanto e poi magari vedi subito dopo il Napoli sconfitto tra zero contro il Verona e mettono l'immagine il labbiaio di Conte che dice appunto siamo 8 contro 2 passano la para a Guangesus e prendiamo gol facendo riferimento alla fragilità difensiva perché poi tutto un discorso ecco perché vi dicevo di squadra perché al di là degli uomini ok la difesa è aberrante di Lorenzo non è più quello dell'anno dello scudetto lo metti come braccetto Urachmani che leader che è leader non è metti Guangesus che spara con la sua croce rossa in più non hai una fase difensiva ottima non ditemi che Mazzocchi è all'altezza ad esempio buon giocatore ma da serenitana c'è nel senso ha fatto quell'hype in quel momento perché stava facendo bene ma voglio dire non è che stiamo parlando di Dani Alves è Mazzocchi un buon giocatore ma non da Napoli scudettato semplicemente era stata fatta una cessione a Napoli perché semplicemente la serenitana aveva fiutato l'affare della cessione punto ha incassato una cifra superiore al valore del giocatore i soldi servivano ed è stato sceduto appunto Mazzocchi quindi sono parole dure e la serietà di Conte è fuoriera della importanza del problema fa capire questo Conte è uno guascone uno che l'ha battuta l'ha stuzzicato l'ha battuta non te la fa mancare ma se parla così seriamente responsabilità è un problema difficilmente risolvibile adoro quantomeno in breve termine bisogna pensarci alle parole di Conte bisogna pensare alle parole di Conte e alla serietà di questa situazione del Napoli ovviamente io non sto parlando di crisi del Napoli ragazzi crisi dopo una partita come ho detto nei commenti riguardo dei tifosi del Torino che mi hanno scritto ma tu non avevi detto che Coco non era buono per la Serie A ragazzi io come penso che una rondine non faccio primavera non dico neanche che un primo freddo voglia dire che sia arrivato l'inverno quindi capite bene che bisogna sempre avere equilibrio perché l'ignoranza non sta nel dire la propria opinione e magari anche sbagliarla l'ignoranza sta nel non cambiarla quindi non parlo di crisi Napoli sarebbe una follia ma è un campanello d'allarme che va preso non tanto con le pinze ma se non si lavora ora è mattoncino su mattoncino il problema cresce dopo ci troviamo con un conte che se ne va da Napoli perché sbrocca con De Laurentiis roba di dicembre forse gennaio un Napoli che a gennaio è già fuori magari anche dalla lotta per l'Europa League o magari della Champions lotta per la Champions quindi il problema deve essere capito metabolizzato e bisogna trovare un giusto antidoto quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre impressioni vi mando un bacione e ciò al prossimo video ciao ragazzi